Allora, amici di Quarta Parete, buonasera, sono qui al Teatro Kairos in via Padova 38A, siamo a due passi da Piazza Bologna, sono in compagnia di Alessio De Caprio, che saluto e ringrazio, e come sentite in sottofondo c'è una bellissima fisarmonica che ci accompagna, suonata magicamente dal maestro Fabio Raspa, che naturalmente accompagnerà Alessio in tutta la sua performance. Allora Alessio, tu presenterai da questa sera, dalle ore 21, poi anche domani ore 21, e sabato alle ore 18, Bucefalo il pugilatore, un testo che Alessio ha scritto e naturalmente si dirige, e che ci riporta alla memoria i cruenti fatti del periodo dei rastrellamenti degli ebrei a Roma, giusto? Esattamente, sì. Intanto grazie per questa intervista, perché trovo sempre prezioso dedicare un tempo a questi libri di lavori. Assolutamente. Allora, Bucefalo era il nome del cavallo di Carlo Magno, di Alessandro Magno, perdonami, è vero, sempre Magno era comunque, di Alessandro Magno, ed era il soprannome che poi si era affibbiato a Lazzaro, questo ragazzo di 27 anni, che poi morì purtroppo per mano dei nazisti. Esattamente, Lazzaro era un giovane pugile ebreo-romano, il pugilato era molto diffuso nella Roma ebraica di quegli anni, ma lui era molto forte, così forte da essere chiamato da tutti i Bucefalo, appunto, perché era forte e veloce, esatto, e veloce anche. Certo. Quindi questo ragazzo venne appunto preso dai nazisti e morì giovanissimo, e in parte ci riporta anche il pensiero delle foste ardatine, no? Perché da lì poi parte la tua ricerca, no? Da Pripke? Esattamente, sì, sì, parte casualmente, come tutte le cose buone. Dal boia delle foste ardatine. Esatto, parte da una notte insonne del 2008, in cui mi chiedevo che fine avesse fatto questo personaggio, Pripke, perché in quegli anni, qualche anno prima, fu processato, fu ritrovato, ripreso, recuperato dall'Argentina, e c'era un grande scombussolamento in quegli anni là, feci una ricerca su internet e mi sono imbattuto in quel tempo, in quella notte, insomma, nelle tante interviste delle donne, delle foste ardatine che avevano perso i genitori, i mariti, e in questa intervista mi sono imbattuto in Emma Di Castro, che era la moglie di questo pugile, Lazzaro Anticoli, che scrisse sul carcere di Regino Celi, se non rivedo la mia famiglia, è colpa di quella venduta di Celeste di Porto, rivendicato. E da lì è partita la scintilla? Sì, la curiosità, la scintilla, capire chi era questa Celeste di Porto, perché un ragazzo scrisse questo fatto su un muro del carcere? E da lì è nato un lavoro che è durato di documentazione un anno, molto ricco e complesso. Ci dovrebbero essere più notti insonni, no? Come no, le notti bianche. Le notti bianche, io ci riporto la giusto Iessi, però. Le notti insonni sono molto utili se utilizzate in un certo modo. Allora, dobbiamo dire che questo testo, tra l'altro, questo spettacolo è patrocinato dall'Ampi e da Amniss in Tornecio, quindi voglio dire anche a rafforzare il valore di questo testo, perché sono dieci anni che tu lo porti in giro, insomma, e continuerai a portarlo in giro. Ah, sempre, sempre. Ci sta una posia di Streller molto bella. Ah, nello spettacolo. No, 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 è una riflessione in cui dice che fondamentalmente l'attore può recitare con qualunque cosa, in qualunque condizione, quindi io anche quando sarò vecchio mi auguro che potrò raccontare sempre questa storia con tutti i mezzi che ho a disposizione. Senti, nel tuo pubblico ci sono sicuramente persone mature, ma ci saranno anche tanti ragazzi. Come no? Ecco, com'è la ricezione da parte loro di questo testo? Come li vedi? Perché poi ci sarà un confronto dopo, no? Guarda, io li vedo bene. Sì. Perché sono attenti, pensati. Tu considera che è un'ora e un quarto di spettacolo, che non è poco per dei ragazzi. Quindi è un monologo, in realtà. È un monologo con il fisarmonicista, con Fabio Raspa, che è il maestro, insomma, di musica, che a tutti gli effetti suona da dieci anni con me. Bene. Però è uno spettacolo che i ragazzi percepiscono con grande attenzione, ma in tutta Italia, da Udini alla Sicilia, dal nord al sud, con grande attenzione, pur essendo recitato in giudaico-romanesco. Ah, ecco. Questa è un'altra particolarità, insomma. Sì, è stato fatto un lavoro sul linguaggio. Bravo. Io non sono ebreo, sono cattolico. Appunto, non è stato semplicissimo entrare. Quindi ti sei dovuto avvalere anche di qualche esperto. Sì, di molte interviste, di esperto, ho letto dei testi. Molto particolari, che è appunto della tradizione ebraica. Insomma, il lavoro di documentazione è stato importante anche per quello, per capire poi il linguaggio qual era. Ci sono tanti elementi appunto di giudaico-romanesco, eppure questi elementi sono arrivati anche ai giovani. Magioni di altre regioni, quindi... Ma poi tu, dopo c'è un confronto con loro, vi parlate, insomma... Sempre, sempre, sempre. Perché è utile questo dopo, no? È utile, ma poi questo spettacolo ho cercato di costruirlo abbattendo la quarta parete. Bravo. E quindi per far sì... Non la mia però, eh? No, no, la tua ancora la teniamo in piedi. È caso. No, però abbattendola nel senso appunto entrando in rapporto con il pubblico. Certo, certo. Questo spazio, tra l'altro il Kairos, questo stasera è particolarissimo, perché i posti si sono attaccati alla platea, quindi è un aspetto per me importante. No, anche perché proprio siete proprio incollati. No, ma anche perché senza relazione, una relazione concreta, la memoria diventa un fatto di tanti anni fa, invece la memoria è un tema contemporaneo, attuale, troppo importante per essere... Non devono esserci barriere. No. Bravo. Allora, io ringrazio Alessio De Caprio, ringrazio anche il maestro Fabio Raspa, la fisarmonica che ci ha accompagnato in questa piacevolissima conversazione. Teatro Kairos, da questa sera, ore 21, sabato, ore 21 e domenica, ore 18. Bucefalo, il pugilatore, scritto e detto, interpretato da Alessio De Caprio, siamo nell'ambito della rassegna, il teatro che non c'era, ho bisogno di sentimenti, direzione artistica di Sefalo Paria, Palmitessa, il festival dedicato anche al ricordo di Daniele Balmaggi, giusto? Di Daniele Balmaggi, assolutamente. Dieci anni fa, quando iniziò lo spettacolo, iniziò anche in questo teatro con Daniele, quindi sono molto contento di trovarmi oggi. E quindi sei molto legato, insomma, in questo ricordo. Eh, tanto. Tanto, tanto. Alessio, grazie, in bocca al lupo e buon teatro. Crepi e grazie a voi per l'attenzione. Grazie a te.